Salve amici, finalmente ci vediamo di nuovo di persona. Il 25 marzo sarò a Pescara al Cinema Teatro Massimo a partire dalle ore 16 con una conferenza ad ingresso libero. Sarà un'occasione per vedere e ascoltare le ultime novità della visita extraterrestre sul nostro pianeta con foto e filmati straordinari, parleremo anche delle ultime iniziative del Pentagono e inoltre discuteremo di vari accadimenti mondiali tra cui gli animali che girano in cerchio e altre cose che sono accadute e stanno accadendo in questo periodo. Ovviamente il largo spazio sarà riservato alle vostre curiosità e alle vostre domande. Quindi vi aspetto tutti numerosi sabato 25 marzo 2023 al Cinema Teatro Massimo a Pescara a partire dalle ore 16. Ingresso libero, quindi non arrivate tardi, potreste non trovare posti. Ci vediamo lì.